This is Vitek Tape, show on air every day, indie music from Tavern di Corciano to the world. Ciao a tutti e benvenuti a Vitek Tape, il programma ufficiale di Vitek Records. Io sono Rossella e starò in vostra compagnia per la prossima mezz'ora. Benny S. è nato in Gran Bretagna e cresciuto alle isole Barbados. La sua incredibile presenza scenica è stata paragonata a quella di Brian McKnight. Ha iniziato a scrivere con il gruppo hip-hop The Tribe. Il suo amore, la passione per il canto e songwriting e la facilità con cui lo fa lo rende un vero professionista nel settore della musica. Benny S. ha registrato e ha aperto per artisti che vanno da Frankie Valli, Tom Bennett, Sheehan, Wu-Tang, Rick Ross, Ace Hoods, Chantelle Lane e Donnie Clang. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti 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 Un uomo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Formule Grazie a tutti Grazie a tutti Formule Grazie a tutti Io Grazie a tutti Grazie a tutti